Rezzo Speri, lei si candida a sindaco di San Pietro Caldiano con una lista civica. Speri, sindaco, puoi spiegare perché si ha deciso di candidarsi e come mai con una coalizione di questo tipo? La mia presenza come candidato sindaco è nata da una necessità del partito, del PD, del circolo PD di San Pietro Caldiano, di trovare una persona che potesse avere capacità di dialogo con tutte le forze sociali, politiche presenti nel Comune di San Pietro Caldiano. Hanno riconosciuto in me la persona ideale per le mie capacità personali. La coalizione che la sorregge, come è nata, come l'avete creata e perché c'è il simbolo del PD? Quindi, il simbolo del PD non c'è perché le necessità del Comune sono molteplici e non certo quelle dei partiti. Ci sono questioni stringenti che devono essere risolte e per fare questo bisogna cercare di tenere assieme molte persone, molte iniziative anche di carattere diverso. Perciò è stato stabilito, in accordo anche con le altre forze con cui si è andati a dialogare, di non presentare i simboli specifici ma di creare una lista che fosse la più ampia possibile e che quindi potesse essere rappresentata veramente con un simbolo civico, in questo caso. Se lei sarà eletto sindaco, c'è un progetto, un argomento che intende realizzare subito? Beh, io ritengo che la necessità del momento siano le fasce sociali più deboli. Quindi la mia iniziativa primaria è quella di creare un fondo che è finanziato con la diminuzione del compenso sia del sindaco che degli amministratori. La diminuzione di quanto? Del 50% almeno, che aiuterà a creare questo fondo all'iniziativa per il sostegno delle famiglie e dei giovani. Come verrà gestito? Si creeranno dei progetti specifici, sappiamo che oggettivamente ci sono necessità di carattere economico per le famiglie e di carattere anche di futuro per i giovani. E quindi si potranno creare dei progetti che potranno essere finanziati per le possibilità che c'è rispetto a questo fondo, che potranno essere finanziati per la gestione, ad esempio, dei mauci per le mese dei bambini delle scuole, oppure per i ticket degli autobus che portano i giovani nelle scuole medie, nelle scuole elementari del comune. Per quanto riguarda le famiglie, un contributo che potrà aiutare anche oggettivamente al pagamento delle bollette della corrente e al pagamento delle bollette della GSM per il gas o per l'acqua. Devono essere messaggi concreti, devono essere delle cose che possano concretamente contribuire al fabbisogno delle famiglie, non un qualcosa che possa essere dichiarato e annunciato e poi che non ha la possibilità di essere dichiarato.